La Regione ha lavorato bene, ma c'è ancora tanto da fare, è quanto ha commentato Maurizio Puccianese in rappresentanza della Commissione Europea, riferendosi ai dati emersi dal rapporto sulle attività svolte dalla Regione nel 2010. Il documento è stato illustrato in occasione della riunione del IV Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Secondo le stime, il 39% dei fondi comunitari è stato investito nell'asse 3 per dare attuazione all'inclusione sociale a beneficio di soggetti svantaggiati, mentre il 32% sono stati stanziati nell'asse 2 al fine di offrire aiuti a coloro che sono alla ricerca della prima occupazione e che ha perso il lavoro attraverso la concessione di ammortizzatori sociali in deroga. Ma qual è il bilancio attuale del Programma Operativo FSE 2007-2013? Ha confermato il trend di positivo utilizzo dei fondi strutturali da parte della Regione Basilicata avendo già perseguito al 30 aprile il limite di impegni previsto dal delibera Cipe dell'anno scorso.